L'auditorium di Parco presso Villa Galvani ospiterà Renato Pennisi, codirettore del Dipartimento d'Arte Moderna e Contemporanea di Cristis Italia. L'incontro aperto al pubblico, condotto da Giovanni Cozzarizza, sarà intitolato 10 consigli per il collezionista e sarà un'occasione unica per confrontarsi con uno dei principali responsabili della celebre casa d'aste. Ai nostri microfoni Marco Minuz dell'Ufficio Cultura del Comune di Pordenone. Parco è stato inaugurato qualche mese fa con l'idea di un museo dinamico, non solo proteso ad organizzare mostre d'arte ma anche favorire approfondimenti, momenti di studio, workshop con importanti figure professionali dell'arte moderna e contemporanea. In tal senso ci piace ripetere uno slogan che non è solo importante comunicare qualcosa ma anche comunicare con qualcuno, pertanto porre il visitatore al centro di una riflessione. E in tal senso il Comune di Pordenone, con il prezioso aiuto di Amici di Parco, di questa associazione che sostiene il museo, ha organizzato un incontro davvero molto importante con Renato Pennisi, co-direttore del Dipartimento di Arte Moderna e Contemporanea di Cristis Italia, una delle più importanti case d'aste a livello internazionale. Il titolo di questo incontro è 10 consigli per diventare un collezionista, ma mi piace anche ripetere un sottotitolo che ho sentito in questi giorni da parte di un amico di Parco che è 5 errori per diventare collezionisti. L'incontro ovviamente molto importante, consiglio a tutti di venire e di partecipare, sarà aperto al pubblico e si svolgerà giovedì prossimo alle ore 18 presso l'auditorium di Parco.